Buongiorno, benvenuti a questa nuova selfie ricetta. Oggi sono invasa dai fiori, questi sono i fiori di zucca che mi ha regalato il mio adorato nonno Carlo, il mio vicino di casa, che ha un orto fantastico. E quindi questi sono solo una parte. Oggi li voglio fare in modo semplicissimo con la mia pastella, quella che deve un po' lievitare, e li farcirò con mortadella e provola affumicata. Come prima cosa prepariamo la pastella. Prendo una decina di grammi di lievito, lo sbriciolo in una ciotolina, aggiungo l'acqua, sciolgo con le manine e aggiungiamo la farina. Tanta quanta occorrerà per creare un impasto liquido, ma non proprio acquoso. Un attimo che prendo un cucchiaio. Quindi vado, mescoliamo bene. Se volete potete mettere un'acciuga per salare, e io infatti la metto, adesso la vado a prendere. Facciamo delle acciughine in frigo, già aperte. Questo servirà a dare, ovviamente, sapidità alla nostra pastella. Poi, sapete che con l'acciuga il fiore di zucca si sposa benissimo. Questa è la corposità ideale della nostra pastella. Adesso la facciamo lievitare un'oretta, dovrà fare le bollicine, e poi saremo pronti per friggere. Nel frattempo, andiamo a farcire i fiori di zucca. Questi sono davvero, non a chilometro zero, ma a metro zero. Quindi, li levo soltanto queste foglioline qui, e provo a levare anche il pistillo, senza romperli moltissimo. Il pistillo in realtà, dicono che fa benissimo, ma a me dà un po' fastidio, quindi lo levo. Se abbiamo la codina, lasciatela, che sarà più facile metterli poi nella pastella. Li sciacquo, li asciugo, e siamo pronti per farcirli. Vi avevo, ho messo un particolare importante. Io ci metterò all'interno anche la menta. Mi organizzo per farcirli, e sposto l'attenzione non su di me, ma su di loro. Ecco qua. Allora, taglio un po' di mortadella, avvolgiamo, mettiamo una fogliolina di menta, che ci darà un sapore, ragazzi, eccezionale, e chiudiamo. Così via via facciamo anche gli altri. Poi quando saremo pronti per la frittura, ovviamente lo sigilleremo al meglio per evitare che il formaggio fuoriesca in cottura. Ecco qua. Adesso attendiamo che la nostra pastella sia pronta, e andremo a friggere. Guardate com'è lievitata. Messo a scaldare l'olio di semi, e iniziamo a friggere. Allora, pronti? Vado ad immergere nella pastella, e immergo nell'olio bollente, cercando di chiudere il più possibile. Ecco qua. Guardate come sfrigolano e come si stanno ben dorando i nostri fiori con mortadella, menta. E provo l'appuncata. Siamo pronti per tirare fuori i nostri fiori. Belli, sembrano già croccanti solo a vederli. Serviamo su un... Guardate che croccanti. Sentite? Allora, adesso lo apriamo. Mettiamo in un bellissimo tagliere. Voilà. Voilà. Adesso ne apriamo uno. Sono bollenti. Guardate come fila e come fonde. Io lo mangerò appena si raffredda. Guardate che bello. Gocciola di latte. Noi ci vediamo alla prossima selfie ricetta. Veramente non resisto. Mmm. 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 Mmm.